Nella ventottesima domenica del tempo ordinario noi ascolteremo come prima lettura il settimo capitolo del libro della sapienza che parla dello spirito di prudenza di sapienza cioè lo spirito santo come la vera ricchezza tutto quello che possono essere torroni possessi oro ecco tutto questo è niente è sabbia perché insieme a questa sapienza viene tutto perché questo dà il possesso di tutto anche se non è un possesso fisico però è un possesso più profondo più reale questa è la chiave per arrivare a leggere il brano che è il brano in cui si narra di questo giovane che si avvicina per chiedere la vita a gesù questo giovane che vuole sapere come ereditare la vita eterna vuol dire che non ce l'ha la vita eterna come poter avere come possesso come proprio il cuore che è eterno la vita che è eterna l'essere eterno cioè la cosa di dio cioè ciò che riguarda la vita stessa di dio ecco gesù parte dalla sottolineare il problema di questo ragazzo cioè tu mi chiami buono lo chiedi a me bene allora mi dai un'autorità io questa autorità me la prendo e ti dico beh ma è dio quello che dà la vita basta connettersi a lui basta obbedirgli basta seguirlo lui ti porterà la vita e gli cita le leggi del decalogo e questo ragazzo queste cose le ha fatte le ha osservate fin dalla sua giovinezza e questo ragazzo deve passare dalla giovinezza la vita adulta deve a passare a quel che gli manca e gesù gli dice una cosa sola ti manca tu puoi obbedire a mille regole ma non essere entrato in connessione con dio ti manca qualcosa qualcosa che di più questo qualcosa che è di più è il perdere la propria vita per prendersi la vita di dio tutti noi viviamo così cercando di ottimizzare la nostra vita la vita di questo mondo con le cose di dio con la vita di dio vogliamo mettere d'accordo ciò che è immanente con ciò che è trascendente vogliamo che tornino i conti in entrambi i tavoli giochiamo sul tavolo dell'umanità e poi vorremmo anche una vita che non è quella dell'umanità e gesù dice il problema è che finché non lasci il mondo e non mi segui a me come pensi di poter avere la vita nuova e basa anche questo questa scelta in qualcosa di molto profondo fissò lo sguardo su di lui l'uomo e gli disse va vendi tutto quello che hai da noi poveri questo amore non è un amore di stima perché questo ragazzo ha chiesto la vita e ha osservato tutti i comandamenti sin da giovane no questa è la relazione che gesù stabilisce con tutti noi non ne ha un'altra gesù non ha relazioni di indifferenza o di estraneità quando gesù ti guarda ti guarda con amore non ha un altro sguardo lui è felice di amarci e ci ama tutti proprio per come siamo allora sulla base di questo amore dice beh diamoci tutto per tutto io ti do la vita eterna tutto quello che tu chiedi e tu mi dai la tua esistenza la lasci al mondo e vai vieni con me e diventa mio discepolo e diventa mio ecco questo ragazzo non lo fa perché possiede molti beni guardiamo bene qual è la trappola dell'inganno di questo ragazzo quanta gente che chiede la vita tutti un po cercano la vita tutti i giovani se sono giovani se non sono già invecchiati cercano qualcosa di più cercano quel che manca cercano una vita nuova cercano la pienezza ma come si fa a essere giovani non voler vivere una vita grande ma come si fa pure essere vecchi non voler vivere una vita grande ma questa è la domanda di vita che c'è nell'uomo sappiamo di essere incompleti sappiamo che ci manca qualcosa quel che ci manca è dio quel che ci manca è la relazione con qualcuno che ci dia la pienezza che ci dia la realtà fino in fondo ed ecco cosa sta proponendo Gesù a questo ragazzo questo ragazzo cosa capisce che gli sta proponendo un impoverimento una perdita una rinuncia e così abbiamo presentato tante volte il cristianesimo come una rinuncia come un impoverimento nello spirito di francesco d'assisi non c'è il cercare la povertà per la povertà ma cercare il regno dei cieli qui nessun impoverimento qui c'è ricchezza vera come diceva la prima lettura è sabbia tutto ciò che questo mondo può dare è roba da quattro soldi tutto ciò che ci possiamo acquisire in questo mondo chi è il vero ricco chi ha un tesoro che nessuno gli può rubare chi sceglie il regno dei cieli a cento volte tanto a molto di più di quanto questo mondo possa dare a cento volte il mondo perché vive tutto con quel distacco con quella libertà per cui le cose uno se le gode senza ansia senza pressione interiore perché non dipende dalle cose allora quello che va fotografato focalizzato in questo testo è che gesù propone la ricchezza ma quella vera avrai un tesoro nel cielo altrove dice là dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore essere ricchi dell'amore del padre essere ricchi della vita eterna essere ricchi della relazione con cristo avere lo spirito santo nel cuore questo non si cambia questo è è molto di più è cento volte tanto e dicono i discepoli ma abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito noi abbiamo lasciato tutto gesù risponde lasciato tutto ma voi avete ricevuto tutto chi lascia case o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per caso mie del vangelo riceve già ora in questo tempo cento volte tanto e riceverà che cosa la vita eterna e qui c'è anche questa parolina insieme a persecuzioni certo nessuno che lascia questo mondo avrà simpatia da questo mondo perché questo mondo si auto assolutizza e certamente se sceglieremo la ricchezza vera la ricchezza falsa reagirà contro di noi ma quello è un onore ma quella è una buona realtà è un buon segnale se siamo così in questo mondo un po da estranei un po da esclusi perché questo vuol dire il verbo perseguitare spingere fino al bordo vuol dire a lettera essere estranei a questo mondo è un gran vantaggio perché essere molto di successo in questo mondo vuol dire morire con questo mondo dissolversi con questo mondo ma essere estranei a questo mondo vuol dire uscirne fuori e saltare nella vita vera la vita eterna quella di cristo per cui niente è troppo niente è troppo da lasciare da abbandonare per prendere quello che cristo ha da darci grazie 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 a tutti